Ciao, oggi facciamo matematica e parliamo di proporzioni. Cosa sono le proporzioni? Cos'è una proporzione? È un'uguaglianza tra due rapporti. Ovvero, se ho quattro numeri, quattro quantità o grandezze generiche a, b, c, d, posso scrivere che a diviso b è uguale a c diviso d. Se il risultato di a diviso b è uguale a c diviso d, allora ho una proporzione e dirò che a sta a b come c sta a d. Ma vediamo il nostro esempio con i numeri. Ecco qua, allora io ho 10 sta a 5 come 30 sta a 15. Ma questa è una proporzione? Proviamo ad andare a fare la divisione. 10 diviso 5 fa 2. Ora facciamo anche 30 diviso 15, fa sempre 2. Perfetto, quindi il risultato è uguale a 2, uguale a 2. Quindi è una proporzione. Però diciamo che c'è una proprietà fondamentale delle proporzioni che mi aiuta a capire se davanti ho una proporzione. Cosa dice? Dice che il prodotto degli estremi è uguale al prodotto dei medi. Allora qui gli estremi sono 10 e 15, io li ho evidenziati di rosso, i medi sono 5 e 30. Andiamo a fare il prodotto. 10 per 15 fa 150, lo vado a scrivere di rosso. Prodotto dei medi, 3, 30 per 5, fa sempre 150. Quindi è una proporzione. Ci sono anche altre proprietà. Vediamole insieme. La prima è quella del per mutare. Se in una proporzione si scambiano i medi o gli estremi o entrambi, si ottiene ancora una proporzione. Vediamo sempre il nostro esempio. Io ho scambiato i medi. 5 e 30 li ho scambiati di posto. Andiamo un po' a vedere. Allora proviamo di nuovo a applicare la proprietà fondamentale. 10 per 15, 150. 30 per 5, 150. Potevo anche scambiare gli estremi. Il 10 con il 15 era la stessa cosa. Poi abbiamo la proprietà dell'invertire, che dice che scambiando l'antecedente con il proprio conseguente si ottiene ancora una proporzione. Io che ho scambiato l'antecedente 10, suo conseguente il 5, scambiati. Poi ancora ho scambiato l'antecedente il 30, conseguente il 15. Proviamo ad applicare la proprietà fondamentale e abbiamo sempre una proporzione. Poi abbiamo la proprietà del comporre. Ci parla di somma e ci dice che la somma del primo termine con il secondo sta al primo o al secondo, come la somma del terzo e del quarto sta al terzo o al quarto. Vediamo. La somma del primo, 10, più 5, il secondo, sta al primo, 10, oppure al secondo, 5, come la somma del terzo, 30, più il quarto, 15, sta al terzo, che è 30, oppure al quarto, che è 15. Se io faccio questi calcoli, ottengo sempre una proporzione. L'ultima proprietà è quella dello scomporre, che ci parla di differenza, molto simile a quella del comporre, ma dice che la differenza del primo termine con il secondo sta al primo o al secondo, come la differenza del terzo e del quarto sta al terzo o al quarto. Andiamo a vedere. 10 meno 5 sta al primo termine, 10 o al secondo, 5, come 30 meno 15 sta al terzo termine, che è 30 o al quarto termine. Come lo comporre, ma con la differenza. Se faccio i calcoli, ho sempre una proporzione. Ecco qua, questa è una tabella riassuntiva, compatta, con tutte le proprietà. Bene, adesso andiamo a fare un esercizio. Dobbiamo trovare il termine ignoto. Vediamo l'esempio. 120 sta a 2, come x sta a 30. x è il nostro termine ignoto. Vediamo come si svolge questo esercizio. Io lo faccio però applicandolo ad un problema. Il problema è questo. Un opieraio viene pagato 120 euro ogni due giorni. Quanti soldi guadagni alla fine di un mese di 30 giorni? Questo è un classico problema che si può risolvere con una proporzione. Cosa faccio? Creo la proporzione con i dati che ho. Comincio a mettere 120. Segno sotto sono euro. Sta a 2, l'altro dato che ho, 2 giorni. Sono giorni, segno 2, scrivo giorni. Adesso devo andare a completare l'altra parte della proporzione. Allora, io ho euro, quindi ho messo in relazione gli euro con i giorni. Provo a riscriverlo, euro e giorni. Allora, io che cos'ho? Non è il problema. Quale altro dato ho? Ho i giorni, 30. Vado a scriverlo nel posto giusto, corrispondente ai giorni. Mi mancano gli euro, che è la nostra incognita. Quanti soldi guadagna la nostra x? Dopo che ho creato la proporzione, vado ad applicare la proprietà fondamentale. Il rapporto dei medi è uguale, il prodotto dei medi è uguale al prodotto degli estremi. Quindi vado, comincio con la x. Faccio x per 2 e poi scriverò 120 per 30. Quindi x è la nostra incognita per 2, prodotto dei medi. e poi vado a scrivere il prodotto degli estremi, 120 per 30. Eccola qua. Applico la proprietà fondamentale. Benissimo. Ultimo passaggio. Cosa faccio? Vado a isolare la mia x. Cioè, scrivo x dalla parte sinistra dell'uguale, metto l'uguale, poi 120 per 30, c'era già, lo lascio. Lo riscrivo. Poi cosa devo fare? Devo portare di là, alla destra dell'uguale, questo per 2. Portandolo alla destra, però, il per diventa un diviso, cioè cambia. Diventa l'operazione inversa. Quindi faccio una linea di frazione che mi indica appunto la divisione e metto fratto 2. Ecco qua. Io così trovo x, quindi faccio 120 per 30 e poi lo divido per 2. Quindi 120 per 30 fa 3600, diviso 2, 1800. Vado a scriverlo. Quindi il mio, la mia risposta, quanto quanti soldi guadagna la fine l'operaio del mese, la fine del mese è 1800 euro. Adesso proviamo a fare un altro tipo di esercizio. Dobbiamo trovare due termini ignoti sapendo la loro somma. Vediamo un po'. Ho x sta a y come 14 sta a 2. Ma so che x più y fa 144. Che cosa faccio? Prima di tutto applico la proprietà del comporre. Cioè, vado a scrivere x più y più y, perfetto, sta a y come 14 più 2 sta a 2. Sta a 2. 2 più 2 sta a 2. Ecco qua. Applico la proprietà del comporre. Poi cosa faccio? Beh, è semplice. Io y più x, x più y non so quanto vale. Vale 144. Quindi vado a sostituirlo. Sostituisco la somma, il mio numero. 144. Quindi vedete che diventa praticamente diventa una proporzione con un termine ignoto anziché 2. Andrò anche a calcolare 14 più 2 che fa 16. Quindi vado a calcolare il termine ignoto come abbiamo visto prima. Quindi applicando la proprietà fondamentale diventa il mio y var 18. Adesso trovo x. Cosa faccio? Vado nella somma, sostituisco la y che ho trovato e quindi farò 144 che era la mia somma meno y, cioè 18 fa 126. Ho trovato la mia x. Quindi ho trovato i due termini. Per oggi abbiamo finito. spero sia stato utile il video. Vi ringrazio. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.